Salve ragazzi siamo su Immortal oggi Dopo la recente Il recente video in cui Eravamo morti Dove andare a prenderci i nostri anime Ok questo è morto Di qua dovremmo andare Anche c'era lo stronzettino che le spawnava di continuo Vabbè non mi ha fatto niente Perfetto ancora meglio guardate No problem Di qua invece Vabbè Ah abbassiamo la scala Perfetto Ottimo Ottimo Qua non possiamo andare da nessuna parte Ok ok Quindi l'unica scelta è andare di qua Speravo di irbeccare le anime che l'hanno perso Qua era un casino Mi ricordo molto molto bene Ah no Pura dietro Poi Ok questo è morto Il problema ora sono gli altri Allora Qua c'è un personaggio A quanto losco Cos'è? Frammento antico Ok Non baggarti Eccoci qua Naro C'è un personaggio insomma ha lottato come come non mai per questo mondo ok basta allora io vorrei andare qua sopra se c'è possibilità e in teoria andando quassù ci dovrebbe essere modo no? so che il problema è questo strontettino qua e mi ha machilato con un colpo si vabbè ovvio avevo poca vita però non ho visto neanche quando mi sono mi ha mirato cioè non ho visto neanche la come dire mirino prendermi ottimo veramente molto bene non sarà facile questa parte sarà più complicata del previsto allora andiamo qua fortuna che ora abbiamo sbloccato la scala e la madonna madonna se è forte oh ti killa un casino subito così ok andi qua ah va a schivarli questi ok cazzarola eh è scassato un po allora qua c'è la tostanzettina qua non so dove si è andato a finire ma c'era ma sono due ma porca troia ok trasciniamoli verso questo fronte qua si riesce ok 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 dai Potremmo avercela fatta In un qualche modo che ignoro Allora per curarsi Nel menu Facciamo qualcosa Ok ci dà un po' di vita Ah si auto rigenera la vita Potrebbe essere molto buona contro i boss magari E io l'ho sprecata ora Giustamente In questo mondo ancora Dei trappole non le ho trovate Il che è molto buono perché Le odiamo Ah c'è una cassa che non avevo visto Piccola Pozione energetica piccola Ok Solo che andando qua avanti Secondo me si va avanti nel livello Quindi io prendere l'altra strada al momento Perché prima troviamo Cioè prima accendiamo l'obelisco E prima siamo sani salvi E più vicini alla verità Cioè alla Completa del livello Alla sera completa Alla fine del livello Scendiamo scendiamo Di qua mi sa che Ho rispogliato strada Minchia questa vita è la più grande città del cosmo No Mi sa che stiamo sbagliando a questo punto E l'unica è Usata a stasera a sto punto Però io non Non sto capendo cosa bisogna fare Per arrivarci Che è poi quello che mi interessa Allora A cosa è collegata? Penso alla stasera sopra a sto punto Si E basta dire questa cosa da sto punto Sempre a sto punto sto dicendo Allora Adesso andiamo alla Cerchiamo di arrivarci In un qualche modo Non sarà facile anche perché Munizie sono quelle che sono E sono abbastanza scadenti Qua non c'è nessuno Ok Cazzo non c'è nessuno No Mamma che bastardo No 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 e no Cazzo però Porca troia Oddio Oddio Niente Mi tocca far tutta la capa Come un pirla Che odio Che odio Veramente che odio Arrivare là Ho visto che sarà Alquanto difficile Allora Allora Perdere ancora la vita Non è che ne abbia più così tanta voglia Non è che ne abbia più così tanta voglia No Mamma mia Sono quasi morto Allora Eh mi sa che perdo qua Porca troia No Ma che cazzo No Ho perso 5000 bit Ma porca troia Non mi dava il tempo di Niente Di non far niente Di fare il pirla Non è che cosa che non mi dava Non mi faceva schifare Cioè mi aveva stordito in poche parole No Faticano che ci vuole però Non sarà facile per un cavolo Ecco Ecco Andiamo a sperare un po' di data Tanto ormai Tanto ormai non ho pensato da perdere Ma là c'è un potenziamento Se ci arrivo Ma è un po' più lontano Bastardo Bastardo Non è per niente facile Allora Allora Ok Hanno liberato una bestia Non so che sia Ok ma tanto non sono morti Eh vabbè ma che cavolo Cioè con due colpi muori Cioè un attacco che è veramente assurdo Un attacco assurdo questi Non si riesce proprio a A capire Come Cioè Se non lo scrivi sei fottuto Un po' che debba laggare sto cavolo di volume ogni volta Non lo so perché però Poi me lo spiegare meglio Ok Siringa TRM Ah quella che avevo prima che Ok Quella abbastanza buona Ok muori Siringa TRM Avete rotto Un po' i coglioni No non ci arriva Porca troia Si aveva ucciso qualche Da cosa che avevo schivato Dio santo Non ci credo Non ci credo Non ci credo sul serio Eh che lagga Meraviglia Meraviglia Allora Io non so cosa fare Sto sincero Sto prendendo un po' le speranze No bastardo No dai Che ricarichi Anche te Beh possiamo farcela Forse Ma porca troia Ma va la Eh ma ne faccio quasi niente Non ne faccio Ma io In teoria io Avevo cavato Come dire La lock Perché me la fa lasciato lì Che non possibile Corrivo storto Ma quella parte è impossibile Perché Ti attaccano prima Cioè nel senso Arrivi lì che Devi essere già Devi essere già Nel viato uno Poi posso Spawner anche Quegli stronzi là E diventa ancora più difficile Ecco Ho già perso Ma porca troia Cuttiamo la siringa C'è una cosa che fa Se esiste Al Vabbè Per il momento niente Ok Una siringa Benissimo Allora Cerchiamo Cerchiamo di far Tutte figure Stavolta Magari Si arriva da Ma va la Ma che cazzo Dirai Ok Ok Mi ha un paio neboliti Non vengo Non vengo mica giù Comunque da lì Eh Sti bastardi Ok Così Lo seminate Almeno Capienza Dei munizioni 10% Ok 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 Mi ha aperto una porta Sa che non sa cosa sia Prima Non posso usarla Incredibile No Questa qui Ok Forse 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 Riusciamo a capirci qualcosa Dato Siamo a 3.500 di cosa Nada siringa trovata Se casco qua muoio Probabilmente Ok Quindi non caschiamo Eh che palle Non c'è Non c'è un bel niente Beh Ah c'è una scala Che poi potrò Sicuramente Ok 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 La singa Usiamo Visto che si può Perché no Ok Dai Ci stiamo andando abbastanza bene Aspetta Aspetta ma qua si Dove si collega il posto Prima Ma adesso Adesso dove siamo No eh Non dimmi dove siamo Prima Perché mi ammazzo Che cazzo Eh se usi la siringa Magari E posso Di 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 Va A cagare Va Non dovevo Chiccare il tasto Non dovevo Chiccare il bottone Alla per terra Fatta la cavolata E ho capito Che è di qua Ancora più impossibile D'altra parte Quindi Andiamo D'altra parte Addio Allora Questa prova Basta Per oggi Perché sennò Io oggi Di veramente muoio Dentro al cuore Però le anime Dove recuperarle In teoria Porca trolle C'hai bit Volevo dire Vabbè Che se ne frega Di bit In sto momento Non mi interessa Pi niente Di bit Eh no Ma non potevo morire Così Per favore Andiamo qua su E torniamo Sempre al solito Posto Che c'è Dove ci Diciamo Inculeranno Per non dire altro Ok Ok Era scomparso Ok Non aveva droppato qualcosa No No Non quella No Perché Non c'è la silinga Pienimpostata Che due coglioni Allora Siamo calmi Concentrati Rilassati Scherzavo Ecco Ecco Mmm Mamma mia Che ansia Dove cazzo Sono cascato Adesso Niente Mi tocca morire Niente ragazzi Per oggi Possiamo fermarci qua Abbiamo proprio esplorato Apexion Nel Nel suo bel mondo Molto Bestemmioso E Ci vediamo Nel prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi